Con il fatidico taglio del nastro è stato inaugurato ufficialmente il complesso di 84 residenze per anziani a basso reddito presso il Maple Green Residence di Vaughn. Italnews ha intervistato Giulian Fantino, ministro dello sviluppo internazionale. Alonso il governo e il governo e il governo alo come allo come together a provide un'azienda a beautiful, affordable residenze per i sengono e altre disabili persone. Per quelli che non possono avere altri opportuni opportuni. A great residenze, a great housing location right here in Vaughn. So, it shows how much we can do, how much we need to do to support those who have a greater need, to enable them to enjoy a quality of life and to enable them to have the kinds of things that we all strive to have and certainly expect and enjoy.